Il capitano Primo anno da capitano e primo scudetto con un bel due sopra Sì, guarda, non so neanche che cosa dire Sono troppo emozionata, troppo felice E devo solo dire grazie alla società e alle mie compagne Un Brescia che rispecchia anche un po' la tua anima Non hai mai mollato, nonostante dopo l'infortunio Si pensava di tua stagione finita Sei rientrata prima dell'anno, oggi titolare Bellissima stagione No, io non potevo assolutamente mancare Ho avuto una ricaduta ma Stringo i denti e ho fatto bene Perché questa squadra si meritava di arrivare fino in fondo Me lo meritavo io per quello che avevo fatto durante la stagione E sono contentissima di averlo fatto al meglio Da Bresciana quanto vale? Ma più di 100, 101% Questa squadra non ha mai mollato, era meno 5, è arrivata più 7 Carattere che non finisce mai No, no, questo è probabilmente quello che contraddistingue questa squadra Rispetto alle altre Una seconda famiglia per tutti noi E godiamoci questo scudetto che è più che meritato Brava Vale Grazie a tutti, ciao Roberta, non ci si abitua mai a queste vittorie Sì è vero, sono troppo contenta È stato un anno lungo, difficile Però alla fine ce l'abbiamo fatta Per cui sono strafelice Momento decisivo? Momento decisivo? Penso a metà stagione quando eravamo tanti indietro E abbiamo fatto quella cavalcata e siamo riusciti ad arrivare davanti Complimenti Roby Grazie Pagina Sì, molto 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 felice Basta Basta Felice e basta Ciao Dopo otto anni di successi, di trionfi Sei di nuovo qua a festeggiare il secondo scudetto Sì dai, ci siamo meritate quest'anno, un anno faticoso Ma è andata bene e adesso festeggiamo Un anno per te non semplicissimo all'inizio Poi è stato un crescendo Hai trascinato la squadra nella parte finale della stagione No vabbè dai, ognuno ha fatto quello che doveva Il mio anno è stato un po' così Ma adesso si dimentica tutto e si festeggia e basta Adesso siamo in festa e basta Così è un altro giorno Cristiana Girelli, capo cannoniere del Brescia in questa stagione Scudetto fantastico Sì, penso sia stato uno scudetto fantastico e soprattutto meritato Perché è stata una stagione lunghissima Però ce lo siamo meritati fino alla fine E io sono molto orgogliosa di questa squadra Perché penso che prima di una squadra è stato veramente un gruppo Un gruppo fantastico che ci ha permesso di vincere questo scudetto Il momento decisivo lo stanno chiedendo un po' a tutti Qual è stato secondo te? Forse la vittoria a Roma Che comunque è stata molto sofferta E la vittoria sul Bari Che ci ha permesso di venire poi a Riviera Con due risultati possibili su tre Grazie a tutti Grazie a tutti